Un progetto di indagine e documentazione dei fondali marini della Sicilia con l'aiuto di innovativi sensori e robot alla riscoperta di nuovi siti archeologici subacquei. È stato finanziato dalla Presidenza della Regione Siciliana con oltre mezzo milione di euro, d'intesa con la Sommarintendenza del Mare, allo scopo di gettare le basi per l'istituzione di un centro di eccellenza dell'archeologia subacquea. L'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio culturale sommerso della Sicilia per dare continuità al lavoro svolto dal compianto assessore Sebastiano Tusa. Il lavoro di ricerca che il Governo regionale ha finanziato permetterà di creare una mappatura dettagliata della situazione sottomarina da mettere a disposizione non solo degli specialisti del settore ma anche degli studenti, turisti, appassionati di storia, gli interessanti e ritrovamenti archeologici. Durerà circa tre mesi e interesserà i fondali di Palermo, Ustica, Isoleoli e delle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Si avvarrà dell'utilizzo di un drone subacqueo in grado di effettuare contemporaneamente scansioni con strumenti sonari incorporati, immagini video e fotografiche in maniera autonoma attraverso un percorso di navigazione. È previsto anche l'utilizzo di reti di sensori sottomarine innovative che forniranno in tempo reale dati utili per la sorveglianza dei siti e per monitorare la conservazione dei reperti. Le attività saranno gestite dalla Sommarintendenza del Mare con una squadra di archeologi subacquei, documentaristi e ricercatori. La prima fase sarà dedicata alla ricerca a campione a una profondità batimetrica di 50-200 metri di profondità e sarà realizzata una mappatura dei fondali.